Nel mese di marzo di quest'anno in Toscana la mortalità complessiva è stata superiore del 9% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. È quanto emerge da un'elaborazione dell'Agenzia Regionale di Sanità sui dati Istat, il maggiore incremento nei primi tre mesi del 2020. Si osserva nel territorio dell'Asl nord-ovest il più colpito dall'emergenza coronavirus, più 18,1% rispetto alla media del periodo 2015-2019, quasi il triplo nel confronto con l'Asl centro che fa registrare un più 6,6%, mentre nell'Asl sud-est la mortalità è rimasta sostanzialmente invariata. Le province che nel mese di marzo mostrano gli incrementi maggiori sono quelle di Massacarrara, più 42%, e Pistoia, più 24%. Secondo l'analisi dell'Agenzia Regionale di Sanità, ad oggi i decessi legati al Covid-19 in Toscana costituirebbero circa il 60% dell'eccesso di mortalità. L'insieme di informazioni provenienti dalla campione di comuni raccolto, commenta Fabio Voller, coordinatore dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'Arts, è assai più probante per stimare l'eccesso di mortalità avvenuto a marzo a causa del coronavirus, ed è importante sottolineare che questo eccesso è spiegato per gran parte dalla mortalità codificata come Covid.